Oggi se vuoi vendere o se vuoi semplicemente valutare casa online è pieno di tool. Ci sono portali che li offrono, ci sono anche agenzie immobiliari che li offrono. L'unica cosa è che questi tool automatici molto spesso portano a dei risultati che sia in positivo sia in negativo potrebbero portare una valutazione o sottostimata o sottostimata. Questi tool nascono per un motivo semplicemente poi. Nascono per far sì che il portale prenda i dati del cliente e poi li rivende all'agenzia immobiliare. Allo stesso modo l'agenzia immobiliare fa in modo attraverso i dati che prende poi di ricontattare il cliente per farlo contattare da un consulente. Noi abbiamo scelto un'altra strada, usiamo un tool ma non è automatico totalmente, è fatto attraverso l'agente immobiliare che imposta dei parametri e fa una vera e propria analisi di mercato. Questo perché l'automatismo è vero che a noi tutti piace fare da soli ma su una cosa delicata come la vendita di una casa può essere estremamente pericolosa. Mentre invece il supporto di un agente immobiliare che va a decidere con cosa paragonare l'immobile, che parametri inserire e come paragonare anche lo storico del venduto di un immobile consente di avere veramente poi una valutazione dell'immobile credibile e reale. Quindi tanta tecnologia ok ma supportata sempre dall'essere umano. Questa credo sia la strada giusta.